Il punto sulla ricostruzione 2009 e sul trasferimento dei fondi con le iniziative anche dei precedenti governi al centro della conferenza del PD tenuta dal segretario regionale senatore Michele Fina, dai consiglieri comunali Pezzopane e Palumbo, dal consigliere regionale Petrucci e dal coordinatore dei sindaci del Catera Anastasio. Dopo la conferenza del sindaco Biondi il PD vuole raccontare ciò che è accaduto veramente per loro in questi anni, spiegando quali fondi hanno interessato il territorio. Il PD ha fornito un dossier della Camera con cifre e azioni fatte. Gran parte del lavoro è stato portato avanti dalla Pezzopane, allora il governo, la stessa Pezzopane che ritiene inaccettabile la narrazione della destra, che fa partire tutto da un anno zero, quello del governo Meloni, in pieno stile propagandistico a loro giudizio. Il sindaco ha parlato del contributo di 20 milioni per minore entrate e maggiori spese, ma in tutti questi anni, ha spiegato la Pezzopane, tutti i governi precedenti hanno fatto un grande sforzo, chi più e chi meno. La Pezzopane ha ricordato l'ottenimento dei primi fondi programmati nel tempo con il governo Letta, poi 5 miliardi con il governo Renzi per la ricostruzione, con il governo Conte 2 ha ricordato la Pezzopane, più di 2 miliardi per la privata è costante anche per l'altro catere. Il flusso insomma è stato costante e ha garantito ai comuni le risorse. E c'è bisogno che anche questo governo faccia altrettanto, non solo per i giusti fondi, i 10 milioni, 20 milioni che ha ottenuto il comune di recente e che ha magnificato con una conferenza stampa abbastanza propagandistica, ma ad esempio integrando il fondo complementare, quel miliardo e 700 milioni che destinato al cratere largo del 2016-2017 ha consentito e consente di iniziare decine e decine di lavori dei comuni del cratere proprio entro la fine di quest'anno, compreso il comune dell'Aquila. Voi volete che Legnini rimanga, ha fatto un buon lavoro per voi? Penso che abbia svolto benissimo il suo lavoro di carattere istituzionale, garantendo tutti, interloquendo con tutte le amministrazioni locali, le attività economiche, i professionisti. Il coordinatore dei sindaci del cratere, Gianni Anastasio, ha parlato di una ricostruzione che va a frutto dell'impegno dei governi precedenti. Grazie al lavoro del commissario Legnini si portano a casa risultati importanti anche per il 2023. Il cratere avrà fondi. Nel 2023 noi abbiamo la garanzia che tutti i costi che servono per il personale e per le minore entrate dei comuni sono già stati stanziati e che addirittura raddoppiati rispetto a quelli del 2022, per cui insomma sotto questo profilo in questo momento le cose vanno abbastanza bene. Grazie.